Noi facciamo innovazione didattica, da sempre. La didattica è qualcosa che cambia, che cambia la scuola, che cambiano con le tecnologie, ma cambia nel quotidiano. Questo lavoro dell'editoria ci mantiene giovani, perché cambiando le generazioni di bambini dobbiamo confrontarci sempre con qualcosa di nuovo. Qui spesso è stata usata le parole, per noi sono le mani. Le mani perché con le mani facciamo tutto. Il bambino appena nato carezza la mamma con le mani, carezza i genitori, tocca il caldo, il freddo, sente le differenze, inizia a camminare gattoneando, accoggiando le mani. Quindi con le mani si fa tutto, con le mani si scrive. Noi che ci occupiamo di scuola, di libri di testo, di scolastico, per noi la scrittura è una cosa importante. La scrittura si evolve e quindi con le mani arriveremo a toccare i nostri telefonini, i nostri tablet, a spostare le immagini, a lavorare e quindi con le mani faremo il futuro. Il futuro che è artigianale, per noi è l'innovazione partendo dal passato, dalla tecnologia, passando dai tecnologie. La macchina di Gutenberg, di stampa, era una macchina tecnologica per l'epoca, quindi la tecnologia va avanti e sta a noi seguirla come produttori di contenuti.